buongiorno amiche buon mercoledì evviva finalmente è il mercoledì e sono felicissima il mercoledì è un giorno che mi piace tanto cosa dite di questa fascetta skinker con questi pua bianchi di un colore rosa antico molto soft mi piace tantissimo chissà se qualcuna di voi già vedendo la fascetta skinker indorvinerà chi sarà la protagonista di oggi chissà se indovinerete già subito di chi si tratta questa fascetta mi piace tantissimo perché è del mio colore preferito ma i capelli in faccia mi danno proprio fastidio sempre tutte le mattine andiamo a raccoglierli dietro con un pratico coconna a modi lottatore di sumo amiche oggi non ho neanche tanto sonno diciamo che va benino va benino oggi ho un sonno sono mummificata un pochino meno del solito andiamo ad applicare come sempre il tonico acqua di rose di roberts è un tonico che io trovo molto rinfrescante e confortevole e lo andiamo ad applicare come sempre con i dischetti riutilizzabili e lavabili in cottone questi dischetti mi piacciono perché hanno dei colori soft tipo un po pesca rosa antico e verdino menta e li avevo presi su amazon sono arrivati dentro a una pratica rettina buccarellata molto comoda anche per lavarli in lavatrice e ora applichiamo lo stick contorno occhi lo amo questo stick è fantastico highland ed è super idratante super rinfrescante sto cercando anche di trovare degli altri stick da alternare stick contorno occhi ma non ne ho trovati diciamo di chissà che varietà di marche fatemi sapere amiche se voi conoscete altri stick idratanti di quali marche che mi piacerebbe tanto provarli nei prossimi video make up ora applichiamo il labello scrub con la rosa canina questo labellino è molto 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 idratante e non rilascia tantissimi granuletti e come step irrinunciabile applichiamo il siero in crema fluida con acido glicolico 2% con attivi astringenti di rosa multiflora purificante opacizzante e anti imperfezioni questo siero non appiccica non attacca e soprattutto non mi infastidisce perché quelli troppo collosetti mi urtano veramente i nervi soprattutto alla mattina presto amiche da un proprio fastidio ora applichiamo anche questo contorno occhi molto delicato infatti si chiama sensitive e ha collagene vegetale e anti rughe anti borse e anti occhiaie sempre di acqua alle rose andiamo a massaggiare con delicatezza per far penetrare la crema contorno occhi negli occhi e nel contorno labbra devo dire che mi piace e non appiccica per niente come anche trovo fantastica questa crema lifting di acqua alle rose è un senza età con acido ialuronico vegetale che distende le rughe di viso e contorni mi piace e trovo che stia performando abbastanza bene non trovo che mi stia facendo venire imperfezioni e impurità e devo dire che questa è una cosa molto buona non dimentichiamoci se la crema viso non ha la protezione solare andiamo ad applicare la crema solare viso all'aloe vera per esempio come in questo caso e alla macadamia questa è una crema solare viso di l'erbolario con un spf 25 perché andiamo a integrare diciamo ad aggiungere un filtro solare perché la crema viso non ce l'aveva e quindi noi l'aggiungiamo abbiamo tolto l'eccesso di scrub dalle labbra e andiamo ad applicare questo spettacolo questa meraviglia è il Lip Balm di Emily in Paris che si chiama Champaire non so se dirò mai il nome giusto amiche e l'abbiamo trovata all'interno della box che abbiamo spacchettato ieri pomeriggio e si chiama Weekend in Saint-Tropez Gift Set è pazzesco questa box perché costa poco e ce l'hanno dentro tante cosine carine ora andiamo ad applicare la crema sul collo questo è un trattamento che mi piace tantissimo di Clarence è l'extra firmin collo e decollet è un trattamento giovinezza decollet collo levigante e rassodante e ora andiamo anche a intervenire sulle manine applichiamo una crema a mani idratante e protettiva con passiflora e mandorla di Clinians mi piace questa cremina soprattutto mi piace la profumazione e ora voilà! primo step makeup di oggi andiamo ad applicare il primer che abbiamo trovato dentro al calendario dell'avvento di Emily in Paris il brand del calendario è Revolution e all'interno di questo calendario dell'avvento che mi pare prezzo pieno fosse 49,90 io l'ho pagato 39,90 sul sito di Revolution ma in realtà con i saldi si poteva acquistare anche per soli 34,90 euro quindi che dire pazzesco all'interno c'erano tantissimi prodottini uno più bello dell'altro e ora andiamo ad applicare il correttore di Revolution in colorazione C5 questo correttore è pazzesco mi sento di dire che è buono 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 lo paragono a tanti brand super costosi perché è veramente buono mi ha soddisfatta e dura tantissimo tutto il giorno ora applichiamo in combo due fondotinta uno più chiaro e uno più scuro questo è quello più scuro in colorazione 0,70 ed è l'Active Light fondotinta attivatore di luce pelle perfetta con un SPF 6 quindi dentro un SPF direi che ci sta buono 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 che ci stia la colorazione è un po' scureta ma mica non spaventatevi ci vuole un po' di colore un po' di abbronzatura in questa pelle così diciamo piena di grigiori piena di colori strani alla mattina appena uscita dal sarcofago la Lalix ha dei colori un pochino strani questo invece che stiamo applicando è il fondotinta sempre di pupa ma in colorazione chiara 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 la colorazione è 001 ed è un fondotinta ultra levigante pelle amiche levigata effetto perfezionatore sempre con l'SPF 6 quindi che ci perfezioni che ci migliori è una cosa utilissima già che ci sia scritto perfezionatore mi dà un po' di coraggio cioè nel senso magari io anche se sono un pochino maldestra però se il prodottino dice che fa un po' un mezzo miracolo mi perfeziona mi migliora l'incarnato e ben venga io un pochino devo dire la verità mi fido spesso di quello che scrivono e poi lo provo e vedo se mantiene le promesse e molto spesso devo dire di sì molte volte mi sono trovata bene e i prodottini specialmente quelli di pupa mantengono ciò che scrivono delle confezioni come anche questa magnifica cipria in polvere libera di revolution è una backing powder no flashback super matte fix e mantiene proprio le promesse perché è una cipria che va a fissare e mi era partita tutta la cipria in giro a Mick l'ho dovuta sventolare perché c'era una nuvola di cipria assurda e so che in tempo zero mi fa starnutire e tossire e quindi a Mick l'ho sventolata un attimino però che dire sicuramente pazzesca questa cipria e mi piace tantissimo il combo assieme ai fondotinta di pupa combo perfetto e ora applichiamo questa meraviglia è un blushino che avevamo trovato all'interno della box del mago di Oz bella bella bello questo blushino è veramente spettacolare dà proprio un colorito sano appena appena rosato io lo vedo anche un pochino pescato sinceramente dal vivo non mi dispiace per nulla e ora voilà eccomi che è la protagonista di oggi a me la fascetta skin che è rosa può mi fa venire un pochino in mente Emily in Paris io non so cosa dire mi fa venire in mente un po' Parigi questi può che in realtà potrebbero essere anche forse pin up anni 50 però non lo so a me Emily mi dà un po' che abbia lo stile retro e quindi mi viene in mente la fascetta qua secondo me ci sta un sacco bene amica fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate questa è una palettina fantastica che abbiamo trovato all'interno della box di Emily in Paris la box si chiama Weekend di Saint Tropez Gift Set ed è veramente bella è una palettina di illuminanti è un degradé questa palette perché c'è un illuminante freddo chiaro un illuminante al centro più rosato e il terzo illuminante è più dorato caldo quindi abbiamo la possibilità di avere diverse gradazioni di illuminanti presenti all'interno della stessa palette questa cosa è fantastica perché la box l'abbiamo pagata pochissimo e all'interno c'erano prodotti che mi stanno piacendo veramente tanto abbiamo applicato l'illuminante sia sugli zigomi sulla punta del naso e sull'arco di cupido l'effetto sul baffo amiche è un pochino troppo fluorescente mi sento quasi un'aliena che dire amiche esagerato forse un po' e adesso applichiamo dedicato all'amica che ci aveva chiesto di utilizzare gli ombretti liquidi che avevamo trovato nelle box e nei calendari dell'avvento ma questa in me mi sembra un pochettino rovinato l'avevamo trovato all'interno della box sempre di emily in paris che avevamo spacchettato qualche settimana fa però è un po' incurvato l'applicatore secondo me è difettoso si è schiacciato quando l'hanno diciamo montato fatemi sapere amiche se voi l'avete preso ma voi avete l'applicatore dritto o storto come il mio secondo me il mio è difettoso però non ce ne frega nulla lo utilizziamo lo stesso e utilizziamo come base l'ombretto liquido e ora andiamo a creare un make a pochi con questa palettina bellissima che avevamo trovato appunto all'interno del calendario dell'avvento di emily in paris questo l'abbiamo trovato nel calendario dell'avvento ed è pazzesco mi stavo facendo un po' di confusione tra box e calendario dell'avvento di emily in paris però questo era all'interno del calendario c'erano dei prodotti pazzeschi nel quel calendario mi è piaciuta tantissimo mi sono quasi commossa perché per il prezzo che l'abbiamo pagato mi pareva ci avessero dato troppe cose ora abbiamo applicato tre colori amiche la base e poi un colore bianco all'interno dell'occhio un rosa un pochino meno glitterato matte nella parte centrale dell'occhio e poi un rosa super glitterino nella parte esterna dell'occhio e ora carichiamo di glitter andiamo a sfumare bene col bianco verso il rosa in modo da creare una sfumatura graduale e piacevole e ora andiamo a intensificare con un pennellino obliquo andiamo a prendere il rosso amiche sapete che mi piace tantissimo mettere nel make up anche negli ombretti il rosso mi piace veramente tanto vedo pochi make up realizzati col rosso però a me piace vado a utilizzare il fucsia molto glitterato e un po' di rosso per andare a creare l'ombreggiatura nella parte finale dell'occhio mi fa letteralmente impazzire il rosso nell'ombretto mi piace tanto mi ricordo che è stato uno dei primi abbinamenti che ho provato a fare tipo con un ombretto amiche di Broadway quando avevo 13 anni forse e mi era uscita una cozzaglia pazzesca con un rosso e un arancione non avevo idea che si potesse sfumare amiche una cosa imbarazzante mi era venuta fuori terribile non si poteva guardare diciamo che anche ora il livello non è che sia altissimo però abbiamo sicuramente fatto qualche passo avanti ora andiamo ad applicare anche il mascara sempre di emily in paris che avevamo trovato nel calendario dell'avvento è pazzesco questo mascara da un effetto incredibilmente sventagliato alle ciglia le va a pettinare in una maniera veramente particolare è molto 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 bello mi piace l'effetto che fa un po' doll messo nella parte inferiore delle ciglia diciamo le ciglia inferiori amiche dell'occhio mi dà proprio bisogna stare attenti perché se no dall'effetto sapete il ragneto peloso lo chiamo io che è brutto perché poi se si fanno i grumetti dà proprio l'idea del ragneto peloso bisogna stare attenti e diciamo applicarlo in modo gentile pettinando bene le ciglia però così io secondo me amiche l'effetto tra l'occhio senza trucco e l'occhio col trucco mi piace veramente tantissimo ora andiamo a truccare anche l'altro occhietto applichiamo la base e poi applichiamo i tre ombrettini e li sfumiamo amiche fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo make up di questo look occhi realizzato con la palette di emily in paris e anche tutti gli altri prodottini che abbiamo utilizzato di emily in paris l'illuminante il mascara l'ombretto liquido vi piace il risultato di oggi oppure avete dei consigli da darmi per il prossimo volete vedere lo stesso make up ma fatto con qualche differenza per esempio senza l'ombretto liquido oppure l'ombretto liquido potevamo metterlo anche nell'arcata sopraccigliare possiamo metterlo anche come top sopra diciamo che possiamo giocare a creare dei look sempre diversi anche utilizzando e rigirandoci sempre gli stessi prodottini secondo me è molto carino sbizzarrirsi utilizzando anche diciamo gli stessi prodotti fatemi sapere se mi vi va nei commenti com'è il vostro mercoledì siete contente che è mercoledì dai siamo nel giorno come ha detto un'amica ieri nei commenti nel giorno collinetta quindi tra un po' scolliniamo e poi è tutta in discesa no amiche bello il mercoledì ecco a me già piace perché il giorno collinetta mi fa capire che siamo verso la fine comunque della settimana diciamo lavorativa e quindi il weekend si avvicina insomma ce l'abbiamo fatta anche questa settimana quasi siamo ancora in alto mare amiche però dai un po' di pazienza ora sventagliamo bene anche il secondo occhio come se non ci fosse un domani applichiamo chilate generose di mascara perché il mascara amiche per noi donne non è mai abbastanza vogliamo gli occhi da cerbiata questo sguardo da doll che non vogliamo che diventi di bambola diciamo troppo cattiva quindi stiamo attente a modulare l'ombretto ma soprattutto il mascara e ora zacchete amiche mossa finale di oggi speriamo che non mi vada negli occhi vado a applicare anche lo spray fissante che avevamo trovato sempre nel calendario dell'avvento di Emily in Paris io non sono una fan degli spray fissanti infatti avevo paura di rovinare tutto però vediamo a fine giornata cosa otteniamo insomma se il make up durerà a lungo vi saprò dire nel prossimo video sicuramente e adesso andiamo amiche ad applicare anche questo stick labbra è un rossetto molto delicato quasi un balm da una profumazione di amarena che è qualcosa di spettacolare mi piace tantissimo profumazione amarena molto molto dolce ecco questo è il risultato è sempre l'abbiamo trovato amiche nella box di Emily in Paris è molto carino secondo me il risultato e il rossetto oggi è molto delicato mi piace come ci sta con l'ombretto questo è il risultato che abbiamo ottenuto con tutti i prodotti di Emily in Paris guardo su giù destra e sinistra per farvi vedere bene il mascara come applicato amiche vi mando un bacio grandissimo e vi auguro una buona giornata ciao dopo